Sì Presidente, vado a illustrare brevemente con un unico intervento tutti i nostri ordini del giorno che sono sei. Il noto Presidente è quello dei ricavi che consentono all'azienda di poter reinvestire le entrate sull'efficienza del servizio. Andiamo a chiedere alcune misure per il controllo dell'evasione, quindi dalla vendita del titolo di viaggio a bordo all'installazione sempre a bordo degli autobus di alcune barriere, di alcuni tornelli fisici che così impongano l'entrata anteriore sull'autobus solamente da parte di chi ha un titolo di viaggio convalidato o un abbonamento. Poi andiamo anche soprattutto ad affrontare il tema delle ferrovie regionali ex concesse. Chiediamo un impegno alla Sindaca e alla Giunta di farsi i promotori verso la Regione Lazio, sia per quanto riguarda la cessione della proprietà di queste infrastrutture per la Roma Viterbo, mi riferisco al tratto urbano, per la cessione della proprietà di queste infrastrutture a Roma Capitale. Un tema importante, faccio un esempio, sulla ferrovia Roma Giardinetti che, ahimè, durante la scorsa consigliatura fu interrotta a Centocelle, noi in questi mesi proprio all'interno del Pums per dimostrare che non è che il Pums è solamente un pezzo di carta che ogni tanto transita in commissione, ma è un piano che già sta approcciando degli effetti. Abbiamo fatto insieme a Risorse per Roma, insieme a Roma Servizi per la Mobilità, insieme a Roma Metropolitana, insieme ad Atac, un ottimo progetto di rilancio di questa infrastruttura che prevede non solo la riapertura fino a Giardinetti ma il prolungamento a Termini e all'Università di Tor Vergata. Quindi se la Regione Lazio cede queste infrastrutture a Roma Capitale, noi sappiamo anche che cosa farci, non sono richieste campate in area. Un altro aspetto importante sul quale chiediamo un confronto tra i massimi vertici capitolini e della Regione è il prolungamento dell'affidamento del servizio ad Atac della gestione delle ferrovie regionali ex concesse fino al 2021, così come abbiamo fatto noi in quest'Aula che abbiamo prorogato per altri due anni l'affidamento ad Atac S.p.a. del servizio di superficie e metropolitano, chiediamo che la Regione faccia lo stesso, prorogando di altri due anni l'affidamento ad Atac della gestione della Roma Lido, Roma Viterbo e Roma Giardinetti, così da dare una continuità al piano di concordato, poter ripagare meglio e prima i debitori e poter quindi investire nuove risorse sul servizio. E poi un altro aspetto importante è anche chiediamo uno sforzo da parte di Atac per trovare materiali lotabili, eventualmente anche facendo una ricognizione sulle altre linee da destinare alla Roma Lido, soprattutto visto che andiamo incontro al periodo estivo e sarà importante garantire un servizio adeguato per andare al mare, ai tanti cittadini e ai tanti turisti. E poi l'ultimo aspetto, Presidente, un ultimo ordine del giorno, anche questo molto importante, chiediamo un impegno alla Giunta e alla Sindaca per sedersi al tavolo ancora una volta con la Regione Lazio e rimodulare le quote Metrebus. Sicuramente lei saprà, forse meno chi ci ascolta, che i 35 euro al mese che paghiamo di abbonamento, i 250 euro che paghiamo all'anno di abbonamento, l'euro e 50 che paghiamo del titolo giornaliero, sono soldi che non entrano tutti ad Atac, ma una percentuale di quei fondi vengono ripartiti a Trenitalia e a Cotral, perché con quel biglietto nel territorio di Roma Capitale si può prendere il pullman del Cotral o si può prendere il treno regionale, come talvolta mi capita di fare, dalla stazione Ostiense alla stazione di Burtina, per intenderci. Però vogliamo che questi percentuali siano rimodulate facendo riferimento all'effettiva offerta di servizio presente sul territorio di Roma Capitale. Quindi questo è anche un aspetto importante che consente di rilanciare l'azienda, di rilanciare Atac e di rilanciare la nostra città. Quindi mi auguro di vedere il voto favorevole su questi atti, non solo di questa maggioranza, ma anche delle opposizioni, perché come dicevano il mio intervento in discussione generale, se vogliamo rilanciare questa città è necessario uno sforzo comune tra tutti gli enti, non solo da parte di Roma Capitale. Grazie Presidente.